Hanno preso il via i lavori preliminari per l'attivazione della nuova cabina elettrica primaria di Enel Distribuzione situata in Viacona a Teramo e che verrà costruita nell'area decente alla cabina corrente. Il progetto illustrato ai residenti durante un recente incontro pubblico è gestito da Terna e promette di diminuire significativamente l'impatto ambientale rendendo la struttura meno visibile in quanto posizionata più in basso del livello stradale e più compatta grazie all'adozione di apparecchiatura all'avanguardia. È una questione ormai più che ventennale quindi il trasferimento della centrale deve esserci, è obbligatorio che ci sia perché le condizioni attuali per esempio della centrale sono di un impianto fatiscente vecchio assolutamente garantito sotto l'aspetto sanitario però non è più possibile avere anche dal punto di vista urbanistico una condizione di questo tipo quindi il comitato di quartiere si è attivato molto sotto questo aspetto. Ha potuto realizzare quello che è possibile con una somma assolutamente insufficiente quindi si fa un trasferimento da una parte all'altra parte interrantola togliendo i cavi acquisendo pareri sanitari sicuramente incontrovertibili quindi c'è una garanzia sanitaria oltre che un aspetto urbanistico migliorato quindi il risultato è quello che si dovrà vedere. La ricollocazione della cabina una richiesta persistente da parte dei residenti del quartiere Cona per oltre 10 anni si è rivelata l'unica opzione praticabile per rispettare i tempi e le modalità di realizzazione consentendo l'impiego dei fondi regionali assegnati al comune tramite il masterplan. Questi fondi saranno impiegati per il recupero e il miglioramento dell'area occupata dalla vecchia cabina che sarà resa nuovamente accessibile al pubblico. Per assicurare il collegamento della nuova cabina alla rete elettrica nazionale entro i termini imposti dal comune Terna ha ottenuto un'autorizzazione ministeriale per un allaccio temporaneo in attesa che il progetto definitivo già sottoposto al master riceva l'approvazione sia completato entro i prossimi anni. Terna prevede di terminare questa fase di lavori che coinvolgerà principalmente via Polidori entro il 2024 mentre l'attivazione della nuova cabina da parte di Enel distribuzione è prevista per la fine del 2024.